Siamo a Marotta, la via è via Molise, qui una delle zone più colpite dalla bomba d'acqua, dal nubifragio che ieri sera ha colpito la cittadina. Nelle prime ore della mattinata i vigili del fuoco sono stati impegnati con le pompe a svuotare i garage e gli scantinati di questa zona. Qui e in questo momento stanno lavorando tutti per tirare via le vasserizie dai garage e dagli scantinati e anche le macchine danneggiate fortemente dall'acqua se non completamente ricoperte. Questa sera nel telegiornale vi daremo un'ampia documentazione di quanto è successo. Qui a Marotta è iniziato tutto, ieri sera alle 11 dove è iniziato a piovere incessantemente fino alle 5 di questa mattina. Praticamente un nubifragio si è abbattuto in un piccolo fazzoletto di terra.